Il nascondino su GTA è bello, è divertente, ma quest'oggi giocheremo direttamente al gioco che il nascondino l'ha inventato, Gmod. E oltretutto abbiamo selezionato una mappa fantastica, un museo gigantesco di dinosauri. E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi. E io sono Stefe, che stai giocheremo a Gmod. E oggi siamo qui nel nostro primo video di Gmod, che ovviamente non potevamo non farlo col nascondino, mi sembra giusto. Esattamente, speriamo che vi piacerà ragazzi, Gmod è un gioco davvero figo, un po' nello stile di GTA ci permette di registrare tantissimi episodi singoli, strabelli, con nascondino. Abbiamo scelto la mappa della vita, con suonini, cioè se non vi piace questo io non lo so, ci vivrei qui dentro. Guardate, vi faccio vedere giusto qualche cosettina così a caso. Questo qua è un museo di dinosauri, con tanto di cose davvero spiegate, tutte scritte, dettagliate. E oltretutto, oltretutto, magari la facciamo vedere dopo, non so se abbiamo tempo. C'è lo scheletro del T-Rex e lo puoi far ruggire davvero, cioè è bellissimo. Solo per questo si merita l'amore questa mappa. Un sacco di cose fantastiche. Buongiorno signore, è venuto qua per visitare il museo più bello del mondo dei dinosauri? Ma certo! Ok, allora, come puoi vedere, alla destra e alla sinistra, ha due bellissimi rinoceronti. Ok. Veramente sono dei triceratopi. Lo so che lei è una guida molto esperta, non la vorrei contraddire, ma sono dei triceratopi. Rinoceronti, andiamo avanti. Triceratopi. Mi segua, qua c'è ovviamente l'entrata del museo. Ma lei ovviamente è alla scia, perché così permette ai clienti di non perderti mai. Esattamente, però se mi tocca abbiamo qualche problema perché finisce il round. Ok. Finisce la guida, ti interrompi e svieni. Qua, nella prima stanza, abbiamo deciso di mettere l'emblema dei dinosauri per, diciamo, subito far prendere interesse alle persone come lei che vengono a visitare il museo. Abbiamo ovviamente un tirannosauro. È troppo bello farlo ruggire. Lei può sentire ovviamente il ruggito là. Sì, sì, molto interessante. Scusi, ma solo il personale lo può cliccare e quindi si allontani, per favore. Ok, adesso che sicuramente sarà... Molto impressionante, mi sento come se fossi, capito, nella giungla con i dinosauri. Esatto. Allora, qua... Molto immersivo. C'è una zona solo per lo staff, quindi... Allora, deve camminare un po' più veloce perché io ho paura di toccarla. Eh, lo so. Se la tocco... Stai attenta. Qua succede un disastro. Quindi vada dritto. Venga con me. Allora, qui abbiamo invece una bellissima specie di brontosauro. Era un dinosauro che al tempo si lamentava molto. Ok. E quindi per questo motivo bronto capito di pronto. Per quello non c'è il suo verso perché altrimenti gli sarebbero a brontolare tutti. Sì, sarebbe, uff, oggi sta piovendo, c'è freddo, ma però c'è ogni tanto caldo, mi metto un maglioncino troppo caldo. Non ci sono più. Con la maglietta a maniche corte invece c'è freddo. Non ci sono più le messe stagioni. Una nuvola e piove, una nuvola e c'è troppo caldo, poi vado a sinistra e mi investono. Sto per toccarti per farti stare zitto. Basta, ok? Andiamo avanti. Signale, le stava raccontando i dialoghi classici di brontosauro. No, deve muoversi, ha solo un minuto per continuare. Ok, infatti mi spiace ma ha pagato il biglietto quello ridotto, quindi non può vedere tutto il museo. Ah, ecco perché. Non facciamo in tempo. Forse ho sbagliato il biglietto, esatto. Qua abbiamo la sala bar che c'era anche al tempo dei dinosauri. Certo, mi sembra giusto. E si chiama... Pterosaur caffè. Pterosaur caffè, che problemi hai a dire ptè? Perché gli fai ptè, capito? Ptè. Ptè. Pterosaur caffè. Ok, qua abbiamo una lucertola che ha deciso di farsi il crestino dal barbiere. Non è proprio così. Questo è un pro... Mi è toccato. Tanto c'erano quattro secondi. Come è usato a toccarmi? Maleducata! Ai 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 ai. Steph, Steph, Steph. Non fa farti fare video qua, guarda. Era bellissimo, era bellissimo. Prenderebbe mandarti via. Un momento di cultura e di interesse comune. Continua a presentarti qui ogni mattina. Nessuno ti vuole e tu continui in perterrito. Ma vivo qua. Non è che mi presento, ci abito. Come faccio a non presentarmi se ci vivo? Sei tu convinto di abitare qui. Ok. Nessuno ti ha mai invitato. Non è che se nasci in una casa vuol dire che ci devi abitare, scusami. Allora. Ok, ti devi nascondere tu. Il mio schermo... No, ti devi nascondere tu. No, ho lo schermo nero. Se tu vedi vuol dire che ti devi nascondere perché io tra 30 secondi cerco. Sponare fuori dal museo, non è mai successo. Oh mamma mia, ho 17 secondi. E' già confusa. Sì, perché... Allora, di solito sponavamo in un punto preciso e quindi ero preparata. Se inizio da lì ci stavano, ok. È colpa degli occhiali, vero? Non ci provare. Io voglio dire una cosa. Oggi è pesce d'aprile. Noi volevamo fare uno scherzo strabello per il pesce d'aprile. Però la cosa che avevamo pensato non funzionava. Vi diciamo soltanto che era su Minecraft. La volevamo fare, era bellissima. Non ha funzionato e quindi alla fine abbiamo rinunciato a farvi il scherzo d'aprile. Gli occhiali di Ferinichi però non sono uno scherzo d'aprile. Ce li ha davvero? E da lì in poi li userà per davvero. Anche se le stanno malissimo. Allora è lui che mi costringe a usarli. Io non li volevo neanche mettere nei video e lui invece mi costringe. Se no diventi strabica. Allora, mentre che mi cerca, che mi cerchi, mi fa anche sbagliare le parole. Perché sei una persona che... Cosa hai fatto? Un verso. Aspetta. Perché io so dove sei ma tu non mi vedi. Dicevi, dai, spiega. Dicevo, volevo spiegare brevemente il motivo per quegli occhiali. Chi ci segue su Instagram probabilmente lo sa già perché l'ho spiegato anche lì. Sono ipermetropa e leggermente astigmatica. In più l'oculista mi ha trovato un leggero strabismo nell'occhio sinistro. Che avevo già corretto da bambina ma per evitare che mi torni di nuovo l'occhio storto. Per PC, TV e quando leggo mi tocca usarli. Non sono permanenti quindi non so se li userò in tutti i video. Ma per ora mi trovo meglio. Vedo i super HD quindi mi sembra fighissimo usarli. Hai finito? Sì, sì. Ora siamo ancora più innamorati perché abbiamo entrambi gli occhiali. Sei contenta? No, non è vero. Siamo ancora più nemici. No, siamo ancora più nemici. Allora mi spieghi come fai a vedermi e io non ti vedo? Perché questo è il nascondiglio della vita. Ti stavo facendo i versi. Ah, se li sopra. Se li sopra nella gratta. Eccola, la vedete lì in alto? Ma come ci si arriva? Io non lo so. Eh, gironzolando. Ma sei una barona. Ho panicato perché mi mancavano 17 secondi. Ho trovato le scale, le ho prese e non riesco più a saltare. Ah no, sono saltata. Ma dai, ma ho un minuto per arrivare da te. Donnazione, 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 donnazione. No, non è di qui, non è di qua. Praticamente in questo gioco, se lo state chiedendo per vincere, basta semplicemente toccare l'altro e automaticamente si vince. Quindi a differenza di GTA non ci dobbiamo massacrare di botte. Eh no, cioè per nostra sfortuna non abbiamo una mazza perché questo è proprio il nascondino classico. Sì, per eccellenza. Cioè è stato proprio inventato in questo gioco così come la Marder. Il Death Run. La Death Run, sono tutte state inventate qua. Che mi vengono in mente di Minecraft e di Roblox praticamente le hanno inventate su Gary's Mod. Che poi Gmod infatti sarebbe Gary's Mod. Comunque non ti sto trovando, però non vale, io non so. Vieni qua, vieni. Toccata. No, no, dai, com'hai fatto a toccarmi? Eh, io ero in shift, tu no, stavi. Sì, no, stavo correndo. No, no, stavi correndo. Sì, ho visto la barra blu levarsi. Vai, mi sono nascosto, mi sono nascosto. Che tasto ti tocco però? No, devi venirmi addosso. Io ho cliccato anche in sinistro del mouse, non so se ce l'ha bisogno. Però nel dubbio l'ho fatto. Allora, oggi ha gli occhiali quindi secondo me mi trova più facilmente. Sì, per un po' di video ci saranno solo riferimenti ai tuoi occhiali. Ok, mi sta insultando. No, no. Io neanche li volevo mettere perché alla fine non sono permanenti. Cioè ci vedo ma stanco la vista. E quindi ho detto dai, magari per i video non li uso. Sondaggio? Se sta meglio con o senza? Senza. Sì, dato che ci siamo. Senza, dai, sì, ci sta. Ci sta, ci sta. E' curiosa di vederlo anche lei, cosa preferite. Sì, però secondo me è senso. Vabbè, dai, abbiate pazienza se no divento strabica, non è colpa mia. Eh no, è così, è quello che mi ha detto l'oculista. Possiamo giocare nel condino? Tu ridi ma questo... Sì, ma io ti sto cercando nel mentre non è che sto... Facciamo un po' d'atmosfera, dico io. Ti dicevo, tu mi prendi in giro ma questa è una cosa molto seria. Ok, va bene. Adesso, costolini, difendetemi dalle sue cose in giro. Ma adesso facciamo un pochettino d'atmosfera, per favore. Sì, ma non ti trovo allo stesso. Ok. Non ti dirò mai dove sono. No, dove sei, dai, è finito, dove sei? Al planetario. Ma dai, c'ero, ho girato in tondo, dove eri? Eh, guarda. Ta, ta, ta. No, vabbè. E ci sono anche passato lì vicino, ma col bugliere è un po' difficile venerti. Esatto, esatto, perché devi premere F, andare in giro con F. Con F? Sì, la torcia, F. Ah, non lo sapevo, sono tutti i tasti che pretendi di imbrugliarmi così. Vedi, questo è perché pensi agli occhiali invece che a giocare. Guarda che sei tu che le prendi. Quindi adesso concentrati. Si parte, si parte. Io sono ancora in giro. Allora, voglio far vedere anche qualche parte che ancora non si è vista nel museo. Anche perché di sicuro... Ah, ecco dove erano le scale. Quindi praticamente devo entrare, dove c'è lui che è gigante, così me lo ricordo. Si sale da qua, salgo le scale e teoricamente arrivo dove eri tu. Dove eri alla prima volta? Ah, ok. Aspettate. Cosa hai trovato? No, non riesco a salire. No. Questo era il nascondiglio finale. Peccato, peccato, peccato. Io non riesco a salire in un sacco di posti. Ne ho visti troppi, ma non riesco ad andarci. Infatti sto ancora girando, non mi sono ancora nascosta io tecnicamente. Ah, ok. Pensate... Ok. Probabilmente ci incontreremo a breve. Ok, bene. Io ti voglio dire giusto una cosa. Dimmi. Ho appena trovato il nascondiglio per vincere di nuovo. Ok. E quale sarebbe? Secondo te lo dico. Sì. No. Perché non dovresti? Perché devo vincere, appunto. Allora, da qui mi sono un po' perso, devo essere sincera. Cioè, stai vincendo senza nasconderti? No, adesso mi sono nascosta. Ah, ok. È bruttissimo, però mi sono nascosta. Ok. Che cos'è questo? È un coniglio cinghiale? Guardalo che brutto. Adesso cosa stai guardando? Guarda che mancano 38 secondi. Sì. Sì. Faktinus. Audax. Dinosaur. Era. Cioè, mi vuoi far vincere. Mi vuoi far vincere. Ascolta, mi sto facendo un po' di cultura, ok? È più importante di trovarti. Notato, notato. Eh, io sto facendo sempre lo stesso giro perché non capisco dove devo andare. Anche io mi sono persa 20 volte. Dannazione. Mi sei passato davanti diverse volte, te lo dico. Ah, cioè, quindi sei qua? Da qualche parte, dico. No, ma non ti dico in che momento mi sei passato davanti diverse volte. 3, 2, 1. Ho vinto. Adesso finalmente avevo trovato dove volevo andare. Sai dove ero? Ahà. Guarda, praticamente è l'ingresso. Sai quando entri ci sono i portoni? Ok. Mi sono messa dietro una porta. Ah. Proprio visibilissima. Tu sei passato in quella sala dieci volte e non hai mai guardato dietro le porte. Così ci si deve nascondere, in modo furbo. Eh, in modo particolare. Sono fiero di te. Perché ho detto, tanto non guarderà mai nella sala d'ingresso da dove si entra. Sì, perché ancora sono spesato, non ho ancora il mio talento da detector perché è troppo grande questo museo. Non puoi avere un talento da detector. Il detector è un oggetto, al massimo da detective. Io sono un nascondino a detector. Non esiste. Sì. Non puoi essere un oggetto. Gli oggetti non hanno talenti, sono creati per essere in quel modo. Non guardare il mio schermo, eh. No, tanto non ci vedo nulla. Ti ho detto, sono un nascondino a detector. Ok. Davvero. E cosa vorrebbe dire? Il nascondino a detector è colui che fa bip 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 quando è vicino alla persona nascosta. No. Sì. Al massimo detective, ripeto. Detector. Chissà dove te ne sei andato stavolta, però ti disgraziate. In un posto rosso. Cosa vuol dire, rosso? È un indizio, vero? Sei di nuovo dove c'erano le grate? No. Sì, rosso è dove ci sono le grate. È vero, le grate sono grigie a casa mia. No, eh, ma... Se da te le grate sono rosse... Buon per te. Dove ero io? Da casa mia le cose rosse è la lava. Perché non mi fai parlare? Il fuoco, i rinoceronti marciti. Cioè non sai neanche cosa dire da quanto sei ridicolo. Ti dicevo, per andare nelle grate passi nel cunicolo rosso. Ah, ok. Ecco qua, così sei un po' zitta. Ma non mi sarei mai nascosto dove ti sei nascosta tu? Non avrebbe senso. Manca un minuto. Un minuto per ferire... Eccoti qua! Dove? Dove? No! Era troppo buio, non ti vedevo. Io lo sapevo che eri andato qui sopra. Che poi mi sono resa conto adesso che ho un cunicolo infinito. Io pensavo avesse solo una via. Invece è super gigante. Infatti ho girato un po' con la torcia e ti ho visto lì a covacciato. E tu che facevi tutto. Un minuto per bere i rinchi. Pam! Preso. Sei molto antipatica. È bellissimo. Poi ti ho toccato e quindi hai perso. Molto, molto, molto antipatica. Allora, vediamo un attimino le porte. Secondo me questo lo dico in nascondigli. Ah, adesso le guardo le porte. Lo dico in nascondigli che boh, mi vedi lontano un miglio. Non lo so anzi. L'hai detto anche prima, lo dici per distrarmi. No, questo praticamente. Io vedo tutto fuori, però non so quanto mi vedo dall'esterno. Ok. Non mi posso vedere, capito? Ok. Per essere sicura di essermi nascosta bene. Sappi che ho già acceso la torcia, quindi se stai sfruttando il buio, Steph ti troverà. No, mi dispiace. Ok, peccato. Allora, dietro gli angoli, poi è pieno di bellissimi fossili tutti appesi. Eh, lo so, è bello, è bello. Ad esempio abbiamo... Il museo è davvero fatto bene. Il procaimonoidea alligator. Fede, voglio trovare a te, non ai dinosauri. Dove ti sei nascosta? Lì dietro. Sì, certo. Vedi. Non ci casco. Di sopra? Fede? No, non rivado sopra, dai, che senso avrebbe? Non lo so, non lo so, io non mi fido. Poi voglio vedere un pochettino anche io qua, perché quando ti nascondi non hai la torcia, quindi non puoi vedere bene. No, no, è davvero gigante, anche io me ne sto resa conto con la torcia enorme, enorme, enorme. E quindi voglio un attimino vedere cosa tutto c'è. Fede! Ti devo dare una caramella, vieni. Dai, è buona. Davvero? Sì. Mi sa che esco fuori, allora. Eri un po' troppo zitta. A che gusto? No, no, eri zitta, quindi siamo vicini. No, perché sto guardando dove sei. Ok, le stagioni sono tutte simili e non riesco a capire se sei nella mia oppure no, capito? Ok. Quindi è un po' difficile, perché poi ci sono tutte quelle sezioni enormi. Mi sta arrabbiando, perché tu fai schifo a nascondino e non capisco perché in questo gioco stai diventando brava. Com'è possibile? Non lo so. Sono gli occhiali, sono gli occhiali. Forse adesso che vedo meglio e riesco a vedere nascondigli migliori. Oppure un pesce d'aprile tutto finto e stiamo facendo finta che Veronica vince e in realtà non vince. Perché ti ho chiamato Veronica? Non lo so, ma ti ho chiamato Veronica. Perché sono Veronica, sono Ferenica e anche Veronica. Mi vorrei troppo chiamare Ferenica nella realtà, però non penso che me lo permetterebbe. Mi piace troppo, altrimenti non l'avrei scelto come Nica. Allora, visto che mancano 9 secondi ti do un indizio, mi sei di nuovo passato davanti con la torcia un sacco di volte. E ti ho trollato nelle stanze perché in quel momento eri davanti a me, invece ti ho trollato e hai cambiato stancia. Dov'eri? Dietro uno di quelli, però nella stanza del T-Rex. Di questi cosi, tu ti metti qui dietro accucciato. Così? E mi sei passato davanti un sacco di volte e non mi hai visto, sì. Sto perdendo colpi. Sto invecchiando. Direi che ci possiamo fermare così per questo primo video. Fateci sapere, mi raccomando, se vi piace Gmod, questa non è l'unica modalità che potremo fare. Ce ne sono infinite. Ci sono infinite mappe, infinite modalità, infinite anni. Armi, infinito, tutto quello che volete. Questo qua è un gioco davvero strancinito. Praticamente Gmod è l'unico gioco che ti fa, ad esempio, tu pensi una cosa e su Gmod c'è. Quindi immaginatelo così. Tutto quello che vi viene in mente noi lo potremmo giocare. No, che poi ci scrivono nei commenti la mappa dei Power Rangers. Ma magari c'è pure quella. Può essere. Guarda, tutte le cose che ci sono molto probabili. E può essere. Quindi speriamo che vi sia piaciuto questo video. Ci fermiamo così per questo primo episodio. Speriamo che sarà il primo di tanti video. Ovviamente continueremo a fare il nascondino anche su GTA. Però ci piacerebbe appunto fare anche qui su Gmod alcune cosette carine ed interessanti. Spero che se lo esce così, se ci piace, senteci un like. E se è la prima volta che ho detto il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi di altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!